amici di milan.soccer ben ritrovati e benvenuto a chi è nuovo su questo canale come sempre alcune piccole raccomandazioni la più importante per noi è l'iscrizione al canale qui sotto fatelo se vi va è gratuito magari se non trovate la scritta iscriviti qui c'è il nostro loghetto passandoci sopra con il cursore vi apparirà la scritta iscriviti un like un pollicione a questo video e poi passate soprattutto un sabato sotto in descrizione invece potete vedere il nostro sito milan.soccer www.milan.soccer allora 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 beh sì ho letto tanti dei vostri commenti alcuni non tutti e sono davvero tanti mi fa molto piacere commentate se vi va e sì avete scritto tanto della 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 nazionale e c'è veramente tanta tanta tanto dispiacere nel non poterla vedere con gli occhi anche un po rossoneri ma allora ci consoliamo con il nostro mondo che è un mondo che sta per arrivare un nuovo milan un nuovo milan a cui un po di fiducia va data ci mancherebbe altro come no non è che io critico già ho già detto cinque partite escluse le amichevoli e poi darò un mio una mia personale valutazione sul nuovo milan e sul milan di fonseca se poi vogliamo continuare a dire a continuare a dire le stesse cose mi sembra poi che diventi spucchevole la cosa non entusiasma ed eccita la fantasia di molti sì sicuramente la mia fonseca e soprattutto il calciomercato ci sta riservando delle cose che iniziano a preoccuparmi prima ancora di questo ci tengo a dire che quando abbiamo scritto qualche ora fa quando abbiamo detto qualche ora fa slatan presto sarà smentito eccolo qua hernandez gele milan se il resto lo vedremo più avanti è chiaro che quella farsa che è andata in onda poi figuriamoci io che sul palco ci vado spesso so in tutto e per tutto anche in quella che è la pnl quando le persone stanno dicendo la verità oppure stanno recitando oppure c'è un copione in corso lì mi è sembrato tutto tranne che una conferenza stampa una come dire una farsa se posso usare questo termine però in questo caso ecco che hernandez è subito intervenuto dicendo vedremo vedremo insomma non abbiamo in questo momento ma si poteva immaginare quando è andato via paolo che si sarebbe come dire disgregato l'elemento più importante sarebbe mancato l'elemento più importante l'elemento del cuore l'elemento della storia l'elemento dell'entusiasmo per i colori è una cozzaglia di persone ognuno interessato ai propri interessi e ognuno interessato ai propri affari chi ha la propria carriera chi ha il proprio investimento chi al pensionamento d'oro chi invece agli ultimi tagli dei nastri insomma è un milan che mi sembra poter definire torre di babele poco se questo è pessimismo non lo so non credo mi sembra realismo il pessimismo un'altra cosa molto più complesso questo è molto semplice soprattutto perché nel calcio c'è poco da essere pessimisti ci sono due strade o si vince o non si vince quando non si vince per troppo tempo evidentemente al minimo di critica va fatta altrimenti come dice high end chi dice di essere di combattere dall'interno è già complice quindi mi sembra che molti che a cui va bene tutto ciò è perché dall'altra parte alcuni non vengono più invitati alle conferenze stampa altri poi vengono come dire marginati in un contesto questo è un canale libero fatto da un tifoso assieme ad altri tifosi che siete voi però la questione è molto più complicata perché in queste ore come avete visto dalla copertina al di là del fatto che quei nomi che tanto ci piacciono da buongiorno a colafiore cioè non scordiamo celi perché il milan opererà tanto stasera fra qualche ora guarderà l'attaccante dell'albania broia che oggettivamente non mi scalda il cuore nemmeno lui cosa volete che vi dica probabilmente sono abituato male sarò stato abituato troppo bene da chi ha preceduto almeno fino ad un certo punto è poi un po di tempo ormai che ci siamo abituati ad altro però evidentemente scusate non mi sembra che la fantasia possa essere citato da un attaccante come broia sulla questione sir che si è quello che avete visto in copertina io frequento tanti blog come dire per poter cercare di capire anche delle altre sponde inter juventus napoli roma lazio devo dire che sir che si non è assolutamente lontano dall'inter e questa la la cosa folle ora qualcuno mi verrà a scrivere sono pieni di debiti ragazzi io devo dirvi la verità la prima cosa che ha fatto actri è stato quello di confermare in due minuti lautaro martinez barella due minuti noi siamo ancora abbiamo fatto passare la conferma di camarda come se avessimo confermato van basten in realtà si tratta di un ragazzino a cui abbiamo dato un miliardo cioè voglio dire se nemmeno questo siete in grado di fare fatemi capire che cosa volete fare cosa sapete fare magari avete altre qualità punteremo su quelle qualità però adesso che devo sentire come successo già l'anno scorso frattesi turam e adesso ancora taremi e poi adesso ancora zir che se ditemi voi ditemi voi perché stare dietro un giocatore che comunque ripeto non è neppure mbappé per quanto mi piacerebbe tantissimo venisse al milan e dove un mese di tempo un mese di tempo per andare dietro non lo sapevi un mese fa che il procuratore chi era lo conosciamo bene il procuratore di altri giocatori che sono cercavano di passare poi barbara berlusconi ha pensato ad altro però lo conosciamo bene il procuratore e tra l'altro in inghilterra invece dicono che il manchester united è pronto pronto a dargli tutti e 15 milioni per la commissione quindi in questo momento c'è il manchester united dell'inter sopra questo giocatore ripeto noi iniziamo a commentare ma l'inter non ha i soldi l'inter sta fallendo a me non mi sembra a me non sembra nei fatti poi probabilmente dovranno restituire i soldi del bond ma nei fatti i fatti contano nella vita non le chiacchiere e quindi hanno già fatto mezzo mercato adesso hanno confermato a prezzi più alti di leao i loro top player e adesso vogliono prenderci anche questo io quello che voglio chiedere e non sono in grado di farlo perché volevo andare a cattolica vi dico la verità chi ha visto il video stamattina sa che a cattolica c'è il raduno di tutte le scuole calcio milan tutti i bambini c'è solo massaro cosa volete che vada a chiedere a massaro massaro non gli posso chiedere niente quindi l'unico quando sarà possibile incontrare qualcuno che è in grado di dare risposte o magari qualcuno mi vuole concedere un'intervista io sarò pronto a fare domande che non siano domande comode ma saranno domande scomode fermo restando che non sono io a dover cambiare a poter cambiare a saper cambiare la storia del milan ma quanto piuttosto riceverei solo menzogne su menzogne su menzogne semmai ma non accadrà mai e allora la questione si pone in questi termini quando arriverà qualcuno e chi arriverà come fate a dire che questa è una squadra già pronta e che mancano alcuni dettagli alcuni dettagli per cosa io non so come si faccia ancora ad ascoltare giornalisti che vanno in televisione e non solo in televisione a dire che comunque il milan quest'anno alla fine è arrivato secondo il milan non è arrivato secondo il milan ha perso qualsiasi cosa potesse perdere ha perso l'europa league per non parlare della champions league ha perso sei derby per non parlare del fatto gol subiti e gol fatti durante i derby per non parlare del fatto che non abbiamo mai avuto un minimo di possibilità di arrivare al primo posto se gli altri sono arrivati terze quarte e quinte perché c'è stato il disastro del napoli roma e lazio in totale debacle e quindi era solamente chi la faceva meno chi chi faceva meno danni ecco sarebbe arrivato secondo ma il campionato non è esistito quindi quello che voglio capire onestamente al di là di tutto è proprio questo e cioè la questione relativa al mercato io personalmente il fatto di vedere zlatan imbraimovic in quel non lo so in quel one man show ecco l'ho trovato assolutamente patetico patetico e poi a gerry cardinale voglio dire caro gerry cardinale se tu pensi che per noi forse per l'ultima generazione l'ultimissima generazione se tu pensi che per noi ibraimovic rappresenti la storia non hai capito proprio nulla della nostra storia ibraimovic non rappresenta non ha rappresentato e non rappresenterà mai la nostra storia è stato un calciatore benvoluto da tutti i milanisti è stato un calciatore importante quando maldini l'ha riportato per vincere l'ultimo scudetto ma la storia è un'altra cosa è una cosa seria la storia cioè uno che ha indossato la maglia della juventus e dell'inter non sarà mai parte della nostra storia cioè quella fatta dai baresi quella fatta dai maldini quella roba lì lui non sa neppure di cosa sta parlando però oggi sentirmi attorniato da informazioni che ci dicono che zirchese che la gente di zirchese incontrerà marotta o chi per lui nelle in queste ore io sono rimasto basito e guardate il fatto che succedo meno per carità tutti sbagliamo e tutti possiamo sbagliare ma da quello che vedo mi risulta cosa vera ma la questione un'altra non è che noi non abbiamo avuto precedenti rispetto al soprattutto l'anno scorso non è che non abbiamo avuto precedenti sono tre che ce l'hanno portati via l'anno scorso il mercato e adesso siamo su taremi è fatta turam 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 è fatta frattesi di milan frattesi 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 e poi no 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 turam frattesi frattesi turam e alla fine che è arrivato di questi qui adesso e non è che marotta non abbia dimostrato abbia dimostrato tutta questa tutto questo savoir faire perché fino all'altro giorno è andata a rompere le scatole a camarda non è che si fa scrupoli lui è non è che si fa scrupoli non volete pagare le commissioni sono d'accordo 15 milioni a un essere umano e quando per cosa però oggettivamente usciamo dal calcio andiamo a fare portiamo il milano non lo so vediamo se riusciamo a discriverci al carling lì non credo che ci siano le commissioni agli agenti ecco potrebbe essere un'idea andare a discrivere il milan alla serie a del carling oppure se poi difficile trovare qualche pista possiamo pensare visto che ho qualche conoscenza di poterlo far giocare in qualche campo da golf lì non ci sono queste problematiche va bene ci sentiamo più tardi ragazzi grazie ciao